Lontano dal campo, ormai dallo scorso dicembre, dopo le dimissioni dalla panchina del Crotone, Davide Nicola ha comunque lasciato il segno. Nella città pitagorica sarà ricordato come l'eroe della storica salvezza in Serie A, considerato il miracolo calcistico. Un'impresa riconosciuta al mister nella sedicesima edizione del Premio Nazionale Giuseppe Prisco, categoria allenatori. Un riconoscimento prestigioso conferito ai personaggi dello sport che si sono distinti per realtà, correttezza e simpatia sportiva. Principi solidi che hanno appunto caratterizzato Davide Nicola, dall'impresa col Crotone, al Giro d'Italia in bici per onorare la memoria del figlio Alessandro. Tra gli altri premiati Maurizio Stirpe del Frosinone e Fabio Quagliarella della Sampdoria, rispettivamente nella categoria di dirigenti di società e calciatori. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Chieti il prossimo 14 maggio. Un riconoscimento che legherà ancora di più Davide Nicola alla Calabria. Maria Chiara Sigillò per l'ACI News 24 Ero, 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 ero.